Da quando sei in grado di seguire una storia, hai sempre voluto che ti raccontassi storie di pericolo. Sarà perché il pericolo tu ce l'hai nel sangue, ti scorre nelle vene fin da quando eri un feto di poche settimane. Io lo respirai per te e il sangue te lo portò insieme ai preziosi alimenti che ti nutrivano quando non eri che un pesciolino dentro il mio ventre. La vita e la morte mescolate in una misteriosa alchimia si fissarono nelle tue cellule e come in te e in me, in tutti noi. Quella notte, ricordo, sognai una nevicata nera. La città era ricoperta da una coltri soffice come di cenere e l'alba era scura. Nessuno aveva usato scendere nelle strade, ma da dietro le finestre 30.000 paia di occhi fissavano meravigliati, in silenzio, lo spettacolo tetro della propria città come se fosse appena emersa dai resti di un incendio. Anch'io stavo alla finestra ed ero lì senza sapere che cosa pensare quando sentii emergere nitido dal mio ventre il tuo pianto, per la prima volta la tua voce. Con quella voce nelle orecchie mi svegliai e chiamai subito la mia ginecologa. Devo vederla, qualcosa è successo al mio bambino. Qualcosa è successo a tutti noi, signora. La centrale di Potrock. Non fu necessario che finisse la frase. Da sempre avevo voluto andarmene da là, ma l'inerzia propria della vita tranquilla mi aveva sempre ancorato a quella terra, dove riposavano i miei affetti e sulla cui geografia era scritta la mia storia. Inizialmente sdrammatizzarono. Dissero che le correnti d'aria quella notte avevano avuto direzione nord, opposta a quella della città. Che i vapori, ammesso che ce ne fossero stati e non era dimostrato, avrebbero toccato la città solo marginalmente, dirigendosi invece verso le terre disabitate e gelide dell'interno. Tutti ci ancorammo a queste spiegazioni, e visto che non ci furono grosse conseguenze immediate, continuammo a vivere, ringraziando il cielo della nostra buona sorte. Forse il vento aveva davvero spirato lontano dalle nostre vite, e noi finimmo per rimuovere la paura dai nostri pensieri. Ma la paura mi prese di nuovo, violenta, per alcune ore durante il travaglio. Fu un travaglio lungo e doloroso. Era come se il mio corpo, invece di aprirsi e lasciarti andare, facesse di tutto per opporsi alla tua nascita. Di chi sarei stata, madre? Saresti riuscita a respirare o ti avrei vista soffocare appena nata tra le mie braccia? Saresti stata in grado di vedere, e poi ancora di camminare, di parlare. Ti si preparava una vita facile o un calvario di stenti e sofferenza? Perché ancora nella mia mente era vivo il ricordo di quel tuo primo pianto premonitore? Solo quando tiebbi tra le mie braccia il tuo pianto d'incanto si assopì sul mio ventre caldo. L'angoscia mi si sciolse in tiepidi singhiozzi liberatori. Ci portavamo tutti da quella notte la nostra dose di morte in corpo. Lo ammisero alla fine, dopo le prime analisi fatte su voi, generazione di Potrock, e su di te prima degli altri perché fosti la prima a nascere. Dissero che in voi il metabolismo fetale aveva favorito l'assorbimento e il trattenimento del veleno, ma che tutti noi ce ne portavamo un po'. Dosi minime, dissero, e in tale misura poco pericolose. Così anche a questo avevamo fatto l'abitudine. Finché l'estate scorsa, i capricci del clima su questo nostro pianeta colpirono con inusuali ondate di caldo la nostra terra. Su a nord, la coltre di neve perenne sulla quale giaceva da anni il veleno di Potrock, cominciò a sciogliersi e a filtrare il terreno, raggiungendo le falde che alimentano d'acqua la città. Questa volta furono solerti e categorici. Dovevamo lasciare le nostre case. Per nessun motivo usare l'acqua corrente, raccogliere solo il necessario e muoverci in fretta. Ricordo che l'ultimo giorno, prima di andare alla stazione da dove partivano i treni speciali della protezione civile, io e tuo padre con te in spalla girammo tutta la città, fotografando i luoghi già deserti dove la nostra vita si era svolta fino ad allora. La scuola dove lavoravo, il tuo asilo, il parchetto, la fermata dell'autobus che tuo padre aveva preso per anni, il negozio di giocattoli davanti al quale eri solita fermarti incantata. Chissà se te lo ricordi. Il teatro è la banchina dell'anello. Qualcuno si chiede perché ci muoviamo tutti insieme e non ci siamo divisi neanche dopo aver lasciato i campi di prima accoglienza, dove per i primi mesi siamo stati ospitati. Ci hanno soprannominati la città camminante. Muoversi insieme è una necessità e anche una volontà. È l'unico modo per non lasciar morire la città. Le nostre memorie più care genereranno la nuova città e noi saremo di nuovo a casa.